Nella rete dell'apprendimento i contenuti sono cruciali, circolano tra i nodi creando esperienze in cui l'apprendimento prende forma. Questa rilevanza porta a un errore molto comune. La tendenza è infatti quella di cominciare a progettare il corso dall'indice per poi andare a ragionare sui risultati di apprendimento attesi e sulla strategia di valutazione. Ma se pensiamo a quando scriviamo un libro, l'indice si costruisce man mano che i contenuti prendono forma e se ne ha una chiara visione solo alla fine del percorso. Allo stesso modo, quando progettiamo un corso dobbiamo partire dai risultati di apprendimento attesi e dal ragionamento sulle strategie di valutazione per poi andare a ragionare sui contenuti macro e micro. In questo modo potremmo scoprire che alcuni contenuti ipotizzati in precedenza potrebbero non risultare utili per andare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Quindi, avendo ben chiaro il punto di partenza, ci chiediamo come progettare i contenuti? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima comprendere cosa si intende per contenuto. Per contenuto intendiamo non solo tutti i materiali e le risorse che utilizziamo per animare i momenti di didattica frontale, ma anche quelli che utilizziamo per animare i momenti di didattica attiva, quindi gli input delle varie attività, ma anche gli output prodotti dagli studenti. Non solo, sono contenuti anche materiali predisposti che accompagnano gli studenti fuori dal momento di didattica pura, quindi ad esempio nello studio individuale, bibliografie, esercitazioni e approfondimenti, o che illustrano gli aspetti organizzativi del corso, quindi istruzioni legate, per esempio, alle modalità di svolgimento del corso stesso. Un contenuto non è solo una nozione o un concetto passato durante un momento di didattica frontale e non è neanche qualcosa di scontato o dato a priori. Esistono differenti dimensioni su cui il docente designer può agire per andare a progettare un contenuto veramente utile. Tale dimensioni sono la tipologia, la struttura narrativa, il formato e le fonti. In questo video andiamo a vedere le varie tipologie di contenuto e le possibili strutture narrative. Le tipologie di contenuto sono molteplici. A nozioni e concetti teorici da veicolare si affiancano processi e metodi, casi studio, esercizi, esempi, feedback e valutazioni, istruzioni per lo svolgimento di attività e molto altro ancora. Le possibilità sono infinite, ma è importante non dimenticare che less is more. Quando si progetta un corso, dopo aver elencato tutte le possibilità, è importante fermarsi e fare una selezione per non rischiare di perdere il focus. Il secondo elemento chiave da tenere in considerazione durante la progettazione è la struttura narrativa, ovvero l'architettura strutturale con cui si vuole presentare un contenuto. Pensiamo ai possibili percorsi che si possono utilizzare per visitare una mostra o un'esposizione. Ciascun percorso fornisce una visione differente. Allo stesso modo, la struttura narrativa di un contenuto ne influenza ricezione ed interpretazione. Il docente, in quanto designer dell'esperienza di insegnamento-apprendimento, ha la libertà di scegliere le strutture narrative che siano adatte al suo stile, ma anche che facilitino il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Vediamo ora possibili esempi di strutture narrative. Partiamo dalla struttura narrativa deduttiva, che va dal concetto astratto per giungere all'applicazione pratica, che si contrappone alla struttura narrativa induttiva, che invece va dall'applicazione pratica di una teoria, di un concetto, per arrivare al concetto astratto. Ci spostiamo poi su una struttura narrativa temporale, che invece sviluppa un processo, un fatto, lungo il tempo. Oppure una struttura narrativa tematica, che invece si focalizza su un tema specifico, andando ad analizzarlo rispettivamente nel suo contesto geografico, oppure all'interno di una dimensione temporale. Un'altra struttura narrativa è quella per domande o problemi, che si focalizza su domande o problemi specifici, ne analizza le varie soluzioni, per poi andare ad aggiungere a una soluzione sistemica, che tiene conto di tutte le soluzioni individuate. E, infine, una struttura narrativa rizomatica, che si contrappone a quella gerarchica e che vede vari punti di accesso ai contenuti e percorsi non prestabiliti. Riprendendo la tassonomia di Bloom rivista, è possibile creare un'associazione tra i vari livelli della tassonomia e le possibili strutture narrative. Per esempio, il primo livello è legato al ricordare, quindi potremmo associare una struttura narrativa deduttiva. Il secondo livello è legato al comprendere, quindi potremmo associare una struttura narrativa tematica. Il terzo livello è legato all'applicare, quindi viene facile associare una struttura narrativa induttiva. E così via, fino ad arrivare all'ultimo livello, che è quello del creare, a cui potremmo associare una struttura narrativa rizomatica. Ovviamente queste sono solo esemplificazioni delle possibili associazioni tra strutture narrative e i vari livelli della tassonomia di Bloom, e ci aiutano a comprendere come le varie strutture narrative ci possono supportare nel raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi. Come abbiamo visto, nel momento della progettazione dei contenuti, le scelte sono molteplici a livello di tipologia e strutture narrative. Tali scelte sono però da mettere in relazione a ulteriore scelte che verranno effettuate in termini di formato dei contenuti e tipologia della fonte da utilizzare.